Reina ha già avvertito la tua presenza nella camera. Mamma! Reina, come procedono i preparativi? Alla perfezione. La camera è piena di ammazzazzanzare. Niente uscirà vivo di lì. A mali estremi, estremi rimedi. Abbiamo anche trovato più ammazzamosche. Sono decisa a eliminare il nemico di mia madre. Super Runa! 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 Fammi clike her! Super Runa! Super Runa! Super Runa! Super Runa! Grazie a tutti 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 Che pizzicore Più si grattano, più si sentono pizzicare